le cose non sono mai come sembrano pensiamo di capire il mondo intorno a noi ma in realtà vediamo ciò che sta all'esterno ciò che appare anche io ero come te prima credevo nell'umanità nei quotidiani nella pubblicità nella politica e nei libri di storia un giorno il mondo ti dà un bel calcio nei denti e tu non puoi fare altro che vedere le cose come sono per davvero il mio nome è lucas kane sono un ragazzo normale al quale è successo qualcosa di straordinario forse doveva succedere era scritto nel mio destino nel mio karma oppure altrove sono sicuro di una cosa niente sarà più come prima tutto è iniziato qui dove altro poteva succedere new york capitale dell'universo scacchiera scelta dal destino per l'ultima grande partita ero una pedina come tante e vivevo come tale ma quella notte il caos è entrato nella mia vita non no 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 A presto. 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 A presto.